Il neoeletto sindaco di Malagnino, Eugenio Giuseppe Zini, realizzerà diversi progetti nel primo anno della sua amministrazione. Fra questi il rifacimento della sala comunale, che ad oggi è poco funzionale. Riteniamo che c'è la necessità di intervenire per rendere molto più agevole l'utilizzo degli spazi. Quindi, dediceremo una parte di questa sala con un arredo decisamente diverso da quello che c'è. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, e una parte avremo intenzione di dedicarla in occasione dei matrimoni. Quindi, stessa stanza, ma due attività completamente diverse. Verranno anche pubblicate in diretta streaming le riunioni del Consiglio Comunale. La possibilità di mettere in condizioni i nostri cittadini, che evidentemente è attrezzato e quant'altro, di poter seguire in diretta lo svolgimento del Consiglio Comunale, che è sempre comunque un'attività importante. Il rifacimento del parcheggio del centro ricreativo e sportivo è ritenuto indispensabile, viste le numerose attività che si svolgono. Molto vissuto, da 0 a 100 anni, dal divertimento alla cultura, senza dimenticare possibilmente nessuna fascia d'età. Nel senso che ognuno ha le proprie priorità, le proprie necessità e i propri interessi. Abbiamo il progetto di riqualificazione di un'area utilizzandola per un parcheggio, perché con attività sia del centro ricreativo, sia del centro sportivo, quindi calcio e altre attività sportive, ci sono momenti ed eventi che necessitano di avere degli spazi per parcheggiare meglio e non disturbare i cittadini. Nella frazione di San Giacomo verrà realizzato un parco in memoria del dottor Abruzzi, medico scomparso, tanto caro agli abitanti. Quest'area che vedete è diventata da poco area di proprietà del comune, area standard, quindi può essere utilizzata solo per verde, per parco giochi e quant'altro. Abbiamo intenzione di fare un investimento importante, che prevede il posizionamento di nuove panche, panchine, di giochi per i bimbi e probabilmente riusciremo anche a piantumare sicuramente, perché adesso è abbastanza spoglia, vedere se possiamo magari inserire anche qualche punto luce per rendere questo angolo un pochino vivibile.